Gaggia il nostro gesto d'attacco, BOLLASTRONE! Gerry Bollastrone, il Boldano accorcia nel distante, a 4 minuti e 13 secondi dal termine Rienta in pista adesso, Nate di Casmirro, attenzione, contro fine del Boldano, 3 contro 2 Saviano, di scopra di Casmirro, di Casmirro, se lo guarda il gol! GOI! NEXTBOT! NEXTBOT! E' così fiede nel Boldano! Su 2-0 Luca abbiamo detto, se arriva un gol da un episodio fortuito, la partita potrebbe cambiare Attenzione a Palmieri, Palmieri, che numero! N update BOLL! NIC PANIERI! Un gol po sotto di Nick Palmieri, che consiglia la vittoria al Boldano! Se l'è mangiata esorbita in questa partita, ma l'ha vinta Nick Palmieri con un gol incredibile!